E la curia, non dimentichiamo, non è solo uno strumento logistico burocratico per la necessità della Chiesa universale. No, ma è il primo organismo chiamato alla testimonianza. E proprio per questo acquista sempre più autorevolezza ed efficacia quando assume in prima persona le sfide della conversione sinodale alla quale anch'essa è chiamata. L'organizzazione che dobbiamo attuare non è di tipo aziendale, ma di tipo evangelico. Per questo, se la parola di Dio ricorda al mondo intero il valore della povertà, noi, membri della curia, per primi dobbiamo impegnarci in una conversione alla sobrietà. Se il Vangelo annuncia la giustizia, noi per primi dobbiamo cercare di vivere con trasparenza, senza favoritismi e cordate. Grazie. Grazie.